Piazza Garibaldi, sono con l'assessore Meneghini, l'assessore allo sport del comune di Sondrio per un'occasione davvero speciale. Oggi si corre la Valtellina Wine Trail e vedo che Sondrio finalmente ha preso vita, una gara decisamente che farà parlare. Cosa ne dice? Sicuramente una gara che farà parlare, ma al di là dell'aspetto sportivo penso che sia da sottolineare l'aspetto promozionale del nostro territorio l'intuizione che hanno avuto gli organizzatori di poter sfruttare quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, le peculiarità, le tanto da noi decantate bellezze che però tante volte non vengono debitamente sfruttate, diciamo così invece in questa occasione diventano veramente il centro dell'attenzione, il centro della manifestazione e il vero significato, al di là dell'aspetto conistico, è sicuramente la bellezza del paesaggio che la Valtellina e tutto il suo ambiente naturale può offrire in questa occasione. Concordo assolutamente, poi il tempo oggi è veramente, c'è un cielo azzurro, uno spettacolo, una temperatura gradevole, non potevamo chiedere di meglio quindi sarà sicuramente un successo. Viva la Wine Trail e viva Sondrio! Sicuramente, via la Wine Trail e viva Sondrio e viva la Valtellina nel suo complesso viva gli sportivi con la S maiuscola, cioè quelli che partecipano, magari non dando molta attenzione a quella che sarà la classifica finale, ma per la voglia di essere, di partecipare. Certo, per partecipare, per questo sia il valore aggiunto di questa manifestazione. Vero, che io considero alla fine come una grande festa, un festeggiare proprio il territorio valtellinese in tutti i suoi aspetti. Grazie Assessore, buona giornata! Grazie a tutti!